allora buongiorno a tutti benvenuti alla puntata numero 7 mi sembra numero 7 di questo documentario in pezzi che sto facendo in questi giorni questa puntata parlerà di alchimia e di come sia stata sostituita dalla scienza e dalla tecnologia al giorno d'oggi l'alchimia una nota nel corpus ermeticum secondo hermes trismegisto l'uomo duale che percepisce il disegno divino e perché ha avuto il dono dell'etere ricordiamo l'etere pensiamoci sempre questo elemento che tutto collega non dimentichiamoci che il pensiero umano sono connessioni elettriche chi conserva attivo il suo lato spirituale e perché riesce a captare l'etere e con lui gli archiettipi e la coscienza del cosmos e racconta come in principio vivevano in egitto e dovettero poi ritornare nei cieli perché l'uomo duale avesse aveva smesso di alimentare il lato spirituale permettendo a sofisti demoni e sciiti di attaccare egitto e desertificarlo ci racconta come l'egitto fosse proiezione sulla terra delle macchine celesti qualcuno si ricorda le piramidi e le stelle di rione va bene ermet trismegisto spiega come la musica fosse solo usata con delle armonie particolari divine delle frequenze armoniche che oggi non si usano più la musica le frequenze spostavano modificavano la materia quindi la massoneria nacque nel 717 ma noi sappiamo che realmente le origini sono da attribuire ai tempi di re salomone quindi durante la costruzione del suo tempo come molti sanno tra i suoi operai spunta questa figura no iran abif un ingegnere architetto operaio e lavoratore di diversi materiali questo qua abif aveva diviso i suoi operai in tre livelli e ha segnato ogni livello una parola segreta per farsi identificare nel momento della riscossione della pagano secondo la tradizione massonica gli apprendisti erano identificati con la parola boaz gli operai con giacin giacin non lo so non lo so pronunciare scusatemi e maestri con geova interessante quindi poi dopo vediamo un po di esempi di massoneria nelle teorie in libri nella comunicazione visiva attuale dell'intrattenimento quindi l'alchimia nasce in egitto che era egittus no come si chiamava in passato una una civiltà florida con tecnologie comparabili all'atlantide occhio dell'atlantide poi parleremo quindi con questi stregoni egizi che per quello che non ricordiamo ai tempi di ermete con ermete trismicisto gestivano la tecnologia e la materia in maniera superiore sappiamo che da lì partono gli studi perlomeno quello che noi abbiamo di come la memoria che abbiamo noi ci racconta questo sappiamo che poi ci fu questo contatto dei greco romani con gli egizi no e quindi di questa storia di inganni di sabotaggi ricordiamo cleopatra e marcantonio per partire da qui iniziano quindi a mischiarsi simboli egizi con magia celta dato dagli interessi dei filosofi greci in tutta questa in tutto questo materiale vi ricordiamo che alessandro magno arriva in egitto conquista l'egitto c'è questo locausto nel 391 dopo cristo che incendia la biblioteca ad alessandria e alcuni testi furono quindi recuperati e nascosti ma viene bruciato tutto scompare tutto alcuni testi vengono nascosti protetti e fanno parte di quello che poi viene chiamato occultismo antico da lì l'uso della massoneria delle società segrete per rifarsi del patrimonio culturale esoterico alchemico del passato queste società infatti vengono corrotte non rubate corrotte strumentalizzate ma non ci sa in quale punto lo sappiamo benissimo e vengono strumentalizzate da queste dottrine che mischiano culti mischiano simbolismi e sono sataniche c'è l'inquisizione la lotta tra queste due alchimie naturali e oscure nere tra queste forze quelle che vengono chiamate loggia bianca e loggia negra per adesso andiamo parleremo di questo discorso più avanti ma è sempre il periodo oscuro il periodo dell'età oscura dark age proprio lì in quel periodo iniziano quindi a fabbricare dei testi per camuffare l'alchimia con altri messaggi occulti ingannevoli come i grandi testi del gesuita atanasius kircher per seguire la tradizione alchimica senza essere scoperti no si studia l'alchimia e praticamente e chimica studia la reazione la trasformazione della sostanza e attorno a noi viene usata ma in modo occulto ci sono diversi esempi in tutto il mondo su come si usa al giorno d'oggi l'alchimia non abbiamo accesso all'informazione anche per quello tanti architetti medici artisti scultori in passato hanno assunto quella professione smettendo di chiamarsi alchimisti la separazione delle scienze alchimiche successe dopo il gran diluvio forse il diluvio che inondò l'atlantide forse il diluvio che fece scomparire questa razza dei rossi da dove viene per alcuni studiosi la parola rosso quindi potenzialmente sono conoscenze che venivano dall'atlantide che poi si sono trasferite all'egitto e poi si sono distribuite nel mondo in maniera occulta l'alchimia vincola la materia e l'energia la trasmutazione è controllata dal sistema che imperialista illuminato quelli che conoscono i saperi antichi quindi vediamo anche come combaciano molte volte i simboli anche se modificati anche se camuflati no come si dice il sicilio di solomone ricordate come lo rivediamo in altre situazioni va bene una nota il denaro fu creato per controllare l'alchimia decisamente i reali questi imperiali religiosi che non amavano che la gente potesse usare l'alchimia per trasmutare cose per produrre oro non voleva questo sapere fosse generale conosciuto da tutti utilizzabile e da lì la separazione netta tra la cultura degli illuminati e quella del popolo il reset la cancellazione delle prove quindi separare loro come bene che loro ha delle origini misteriosissime poi ne parleremo più avanti in un altro video quindi ci sono questi rese per convincere cancellare le prove convincere a ritori instaurare un nuovo modello di vita e occultarci tutto va bene nella chimica si mischiano astronomia astrologia fisica chimica religione spiritualità mitologia tutto è uno c'è un ciclo aperto ogni cosa ogni cosa diventa ogni cosa per ritornare al suo stato alcuni degli animi ultimisti più conosciuti sono asclepio ricordiamo asclepio la sua vara che resuscitava le persone il medico paracelso stranamente che qui nel 1700 sostituisce la chimica all'alchimico boyle scrive il libro alchimista il chimico scettico quindi un'opera il fondatore anche lui del collegio co fondatore del collegio invisibile quindi precursore della royal society di londra e lì ciao alchimia l'alchimia quindi diventa di proprietà della massoneria per quello tutte le teorie e le invenzioni sono loro vediamo un po' se possono fare degli esempi facciamo degli esempi lovecraft borges wells verne asimo che sono tutti scrittori romanzisti come si dice perdonatemi che ormai vivo in un altro paese non parlo bene l'italiano sono pionieri nella fantascienza no questi qua sono tutti franco massoni e legati a personaggi come kubrick massone crowley massone un po di personaggi mozart che conosceva tecniche musicali per pochi leonardo da vinci che scoprì fisica anatomia prospettiva moto alare quasi tutto attanasius kircher che fu ottico matematico teorico della musica fu un vulcanologo fisico astrologo massone sigmund freud esponente della psicologia umana massone charles david e la teoria dell'evoluzione massone gregorio mendel e l'eredità genetica massone antoine lavoisier basi della chimica massone pitagora i teoremi massone archimede massone albert einstein massone newton massone ritane di mortaccini massone thomas edison massone guglielmo marconi massone fratelli lumiere massoni giorgio de metri massone andiamo avanti quanti ce ne sono tantissimi io poi mi stanco e quindi pezzossimo di panopolis scrisse i più antichi libri di talchimia e racconta che venivano nell'egitto già la storia la sappiamo è l'ermetismo che deriva dagli studi legati a ermestrismi egisto il tre volte grande no vincolato al dio egizio tot autore delle tavole di smeraldo ea di altri 42 libri di alchimia e di pratica ermetica altri famosi alchimisti viene gli avvi ribno agli anni io non lo conosco ma un famosissimo alchimista nicolas flamel che inventò la pietra filosofale poi un personaggio da studiare joanne scorra bittel che è un tedesco che nacque nel 1670 più o meno nacque nel castello di frankenstein esatto proprio quello è stranissimo il fatto che a facesse degli esperimenti soccorpi poi andiamo avanti quindi dall'alchimia poi deriva la capa la note se vogliamo io non so quando una quindi preciso ma so che il primo da piegarla fu giovanni dico della mirandola questo questo personaggio qua quindi nasce da lì deriva la capa la la fisica nasce sempre attorno al 1500 negli anni in cui nasce la scuola il reset della dottrina no e si iniziano ad allontanare da concetti ci iniziamo ad allontanare da concetti legati all'astronomia gli astri al sole alle stelle tipo l'analema solare quindi l'alchimia a base di tutto la spiegazione a tutto tra l'altro volevo fare una domanda ipotizzando che la teoria del sole dopo andremo a vedere la logica se ci dice cosa ci dice la logica se il sole è veramente il centro del sistema solare e noi gli andiamo attorno o se come dicevano gli antichi prima del reset della dottrina la terra era il centro di questo sistema di satelliti pianeti lune e che aveva una funzione principale legata anche a questi altri astri e se fosse così ipotizzando che non sia fantascienza ripeto ipotizzando io non sono certo di nulla ma se fosse così quindi vedendo che il sole sembra non avere quelle dimensioni sembra non avere queste capacità della luce che dovrebbero contraddistinguere la sua struttura per come ci viene detto quindi se il sole fosse veramente piccolo come la luna e nella nostra atmosfera non mettiamo se è vero quello che alcune teorie molto molto interessanti sostengono quindi è elettrico non di fuoco per quello per magnetismo il girasole lo segue fateci caso non potrebbe seguire un oggetto infuocato per quale legge una pianta solo per elettricità potrebbe avere delle reazioni simili magnetismo è interessante e tra l'altro se fosse elettrico ed energia magari fredda o io non voglio adesso ho bisogno di approfondire delle cose per poi preparare un video successivo ma se fosse veramente piccolo ed elettrico nella nostra atmosfera per quello salendo in montagna la neve non si scioglie perché l'energia è fredda ma per quello ci brucia perché per la composizione che abbiamo noi ed altri esseri viventi organici che assumono nella vita anche altre sostanze come metalli e tant'altro hanno delle reazioni che sentono calore questa è una teoria fantascientifica che poi però ne parliamo più avanti anche perché se il sole viene attribuito in alchimia a un metallo che è l'oro da sempre va bene io vi dico che quindi si lega tutto ben benissimamente se parliamo di energia alternativa elettricità conducibilità elettrica dei corpi e sappiamo le caratteristiche e le proprietà elettriche dell'oro e del mistero attorno a lui quindi dopo questa questo viaggio mentale che mi sono fatto alla fine del video vi lascio con un video che vi fa pensare un po all'alchimia al reset e andremo poi nel dettaglio nel prossimo nella prossima puntata a parlare di come viene applicata questa alchimia e spiegare spiegheremo molti di quegli avvenimenti che sono inspiegabili per alcuni e grazie a tutti buona giornata grazie a tutti